Oltre 70.000 visitatori l'anno frequentano le grotte di Stiffe da gennaio a dicembre e coniugare le eccellenze del vino all'interno delle grotte è un modo diverso di fare promozione delle aree interne. Due eccellenze, una naturalistica, l'altra grazie alle nostre cantine che sono indiscusse leader del panorama nazionale ed europeo e si fondono in una giornata unica il 12 novembre il Consiglio regionale che fa da unione di queste due grandi marchi che si uniscono per la promozione dell'Abruzzo.